Buongiorno Stray, vi rubo un minuto solo, un minuto solo perché siamo alla vigilia della partita di Coppa Italia con il Palma. Io una cosa chiedo al nostro mister, non snobbiamo la partita, non snobbiamo la partita perché io la Coppa Italia me la voglio giocare, la Coppa Italia e agli ottavi mi voglio giocare la partita con la Fiorentina. Già questa Coppa Italia è un formato, proprio il format della Coppa Italia, è qualcosa di solo in Italia possiamo avere squadre che stanno già in finale e squadre che si devono incontrare tra di loro da agosto, mentre le grandi squadre se le giocano alla fine in casa, in casa ovviamente, solo in Italia. Vabbè non me ne frega niente, io voglio giocare gli ottavi di finale con la Fiorentina, caro mister D'Aversa, dobbiamo andare a giocarci la partita come abbiamo fatto a Roma. Noi siamo andati a Roma due anni fa, al primo anno di Baroni, che eravamo ancora in Serie B, ci siamo giocati la partita con la Roma, siamo passati in vantaggio, poi la Roma ha dovuto mettere tutti i suoi titolari, l'allenatore ha dovuto fare cinque cambi, di Morigno, e mettere tutti i titolari, perché le stava buscando sia come risultato sia come gioco, ha dovuto mettere i titolari e poi alla fine l'abbiamo perso, ma ce la dobbiamo giocare, così come abbiamo fatto a Roma. Io ci tengo a giocare gli ottavi con la Fiorentina, mi raccomando Lecce, ciao Strei!